Come viene trattata la leucimia linfatica cronica negli Stati Uniti? Come si sta evolvendo la terapia di questa malattia ematologica e come vengono gestiti i pazienti che purtroppo vanno incontro a quella che viene chiamata trasformazione di Richter? Ne parliamo con un'esperta di questo argomento, la professoressa Alessandra Ferraioli dell'MD Anderson Cancer Center di Houston. L'abbiamo incontrata qui a Roma dove è in corso la quarta conferenza annuale di SoItaly, una società scientifica giovane ma molto dinamica, nata dalla collaborazione fra l'Istituto Romagnolo per lo studio dei tumori di Nomadori di Meldola e l'MD Anderson Cancer Center di Houston. Professoressa, lei lavora negli Stati Uniti al prestigioso MD Anderson Cancer Center di Houston. Come si cura negli Stati Uniti la leucimia linfatica cronica? Il trattamento viene effettuato utilizzando i farmaci target. Si utilizzano gli inibitori del BTK, per esempio i Brutinib, Acalabrutinib e ultimamente si sta anche utilizzando un pochino lo Zanobrutinib. Si utilizzano inibitori del BCL2, in questo caso il Venetoclax e vengono utilizzati o come monoterapia oppure in combinazione con anticorpi monoclonali verso il CD20, Rituximab o Obinotuzumab, più spesso Obinotuzumab. Come si sta evolvendo la terapia della leucimia linfatica cronica? Allora, la terapia sta evolvendo in maniera molto positiva con delle percentuali di risposte altissime e si è ormai completamente abbandonato, perlomeno nel nostro centro, l'utilizzo di farmaci chemioterapici standard. Che risultati si ottengono con questi trattamenti? Ottimi risultati, si ottengono remissioni nel 90% dei pazienti, si ottengono delle remissioni che sono di durata molto molto prolungata e anche un'ottima qualità della vita perché gli inibitori stanno evolvendo verso farmaci che mantengono la stessa attività ma sono molto meglio tollerati, quindi con minori tossicità. Lei oggi ha spiegato, durante la sua relazione, che c'è una quota di pazienti che purtroppo va incontro a una trasformazione della leucimia linfatica cronica sviluppando la cosiddetta sindrome di Richter. Qual è la prognosi di questi pazienti e qual è lo stato dell'arte del trattamento? Allora, quando si parla di sindrome di Richter si entra purtroppo in un campo in cui la sopravvivenza e le risposte sono molto molto più basse rispetto a quelle della fase cronica della leucemia linfatica cronica. Quindi il trattamento si basa, non esiste un trattamento standard, il trattamento si basa su studi clinici e nel nostro centro, come avete sentito durante la mia relazione, utilizziamo sia studi clinici che si basano con combinazioni di chemioterapia e inibitori in particolare combinazioni con venetoclax e chemioterapia ma anche stiamo valutando l'attività dei cosiddetti checkpoint inhibitor in associazione con gli inibitori del BTK, in particolare l'ibrutinib. Quali sono i cosiddetti unmet need, cioè i bisogni ancora non soddisfatti di questi pazienti che vanno incontro alla trasformazione di Richter? Allora sicuramente c'è bisogno di trattamenti più efficaci e anche bisogna cercare di trovare dei trattamenti che siano meglio tollerati perché spesso il paziente con trasformazione di Richter ha ricevuto molti trattamenti come linee precedenti per la linfatica cronica quindi è un paziente provato ed è anche un paziente molto spesso anziano perché dobbiamo ricordarci che la leucemia linfatica cronica è una patologia dell'anziano e quindi ci sono malattie concomitanti e altri problemi che rendono il trattamento molto molto difficile. Dunque in che direzione dovrà muoversi la ricerca appunto proprio su questa trasformazione di Richter? Si deve muovere sicuramente come ha fatto vedere il professor Gaidano nello studio di quelle che sono le caratteristiche biologiche. Bisogna riuscire ad identificare quali sono i meccanismi che causano la trasformazione di Richter e agire molto presto verso questi target, verso questi meccanismi in modo da riuscire a prevenire la trasformazione identificando i pazienti che sono a rischio piuttosto che come stiamo facendo adesso trattare la trasformazione quando è già venuta. Grazie.